Se non ci fosse la legge, noi non potremmo sapere, sappiamo i nostri diritti, se dobbiamo Bentornati nelle vicinanze di Ho ragione avvocato, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, avvocato Gianmario Bastetti e Antonio Costa Barbera. Ecco, la volta scorsa in effetti si era trattato anche di questioni relative al codice anche della strada e ho recuperato sia pure da questo libro che ormai secondo me dovrebbe essere aggiornato di Luigi Malabranca il libro delle sentenze più pazze, abbiamo già usato come brocardi. Questi suoi interventi, Vivi, sono le sentenze pazze, sono bellissime. Sono particolari. Allora, questa in particolare io non l'avevo, sfogliando il libro, non l'avevo mai vista, evidentemente mi ero soffermato su altri episodi, ma un bel po' di anni fa, diciamo circa una ventina di anni fa, accade questo. Il titolo del capitolo è Spinge sull'acceleratore per impartire l'estrema unzione, annullata la multa. Foligno, provincia di Perugia. Il giudice di pace decide di annullare una contravvenzione per eccesso di velocità combinata al parroco. Il motivo è che il sacerdote si stava recando a somministrare l'estrema unzione a un anziano signore. Agonia, purtroppo. Allora, non c'entra, dice il commentatore Malabranca, l'eventuale propensione del prelato a imitare Schumacher, all'epoca si poteva parlare di lui, sulle strade Umbre, nonostante il prete fosse stato beccato da un autovelox a 106 km all'ora, in una zona con limite dei 50. Qui la questione è legata più che altro a una delle funzioni fondamentali del ministero del sacerdote. Il giudice di pace, se il parroco non fosse arrivato in tempo, ha scritto il giudice di pace nella sentenza, si sarebbe causato un danno grave e irreparabile per il credente cattolico che sarebbe morto senza avere avuto gli estremi conforti. Allora, da un lato è sicuramente interessante, ci sarebbe da trovare questa sentenza, ma a me è un po' anziana. Per le motivazioni nel dettaglio. Per le motivazioni nel dettaglio, ecco. Però il commento del giornalista Malabranca era questo, scritto in corsivo, la sentenza farà scuola, perché diceva, non commentava tutti i capitoli, ma quando ci voleva, ci voleva. La sentenza farà scuola. Se il prete che, magari fosse in ritardo per la messa di Natale, correndo in macchina, ahimè, mettesse sotto un pedone, la violazione, il reato, sarebbe in qualche modo meno grave? Sarebbe un attenuante? Ma, dice il commentatore, del resto cosa non si fa per non pagare una multa? Sarebbe lì, è andato un po' giù pesato il commentatore. Direi che ha commentato una sentenza che comunque si prestava a qualche... Io ricordo di aver avuto, forse, avevamo un caso in cui una persona era stata fermata per motivi di guida di stato di ebrezza, ma aveva provato che aveva assunto una medicina alcolica o qualcosa del genere. Io mi ricordo che c'era questo caso e quindi, per carità, qui c'è di mezzo una ragione non solo medica, ma etica, che sarebbe davvero interessante esaminare. Magari, nonostante tutto, anche se su internet tutto si trova, però bisogna vedere se questa sentenza è stata pubblicata. Che è giudice di pace, insomma, diventa un po' difficile. Vi lascio comunque a una riflessione su quanto ha stabilito il magistrato. Adesso l'avvocato Bastetti ha molto tempo per parlare di... Allora, rispondere a una domanda. Si può chiedere l'elemosina? Una domanda che mi sono fatto, sono andato a cercare e... E niente, siamo arrivati a questa conclusione. Allora, intanto partirei da due articoli del codice Rocco, codice penale. L'articolo 670, che dice Chiunque emendica in luogo pubblico, aperto al pubblico, è punito con l'arresto fino a tre mesi. La pene dell'arresto da uno a sei mesi, se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio. Ovvero simulando difformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà. E questo è il 670, è il codice del 1930. Che però, insomma, vediamo fino a che punto è arrivato questa... L'altro articolo, il 671, diceva poi Chiunque si vale per mendicare di una persona minore degli anni 14 o comunque ha la sua custodio-vicinanza, ovvero permette che tale persona mendichi e che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Mi avevano in mente certe cose di tipo Dickens, David Cope, Pinocchio stesso a un certo punto, Pinocchio di Collodi e poi anche Elephant Man. Elephant Man sì, non me lo ricordo. Mi ricorda qualcosa ma non è un passaggio. Però pensate, allora, intanto è il codice del 1930, una volta c'era una vergogna anche per lo Stato, per l'immagine, no? Il fatto di trovare gente in giro a mendicare. Ma perfino l'adri di biciclette, che era un capolavoro, tra virgolette, del neorealismo di De Sica, fu bocciato perché sembrava che i panni sporchi si dovessero lavare in casa. Però, insomma, allora, letto così si sembrava beh, ma questa è una cosa del 1930, chissà poi sarà stato... No, beh, in realtà ha dovuto intervenire la Corte Costituzionale con la sentenza 519 del 1995 per abrogare totalmente, non depenalizzare, proprio levare questa norma che poi è stata questa sentenza ripresa da una legge successiva, 205 del 1999. Però, come potete capire, fino al 1995, teoricamente, queste norme avevano pieno vigore, no? Oggigiorno, cosa dice la consulta? Perché poi si parte appunto da quello che dice la consulta. È partita richiamando la norma costituzionale che tutela in modo chiaro ed esplicito le persone meno abbienti, dice la Corte Costituzionale. Sarebbe quindi contraddittorio, oltre che illegittimo, secondo la Corte, impedire loro di vivere con le donazioni altrui. Ecco, perché è di questo che si tratta. Allora, quando uno elargisce delle somme, magari a un mendicante come l'emosina, è vero, fa un atto di carità. Ma a volte qualcuno dice, ma è un atto di... Sì, è un atto, vabbè, anche per quel motivo, però chiamiamo l'atto di carità. Però giuridicamente è una donazione di modico valore. Esatto. Per cui non serve la forma scritta. Altrimenti serve un atto di carità. Nullo, uno può chiedere indietro, ammesso che poi riesca a ottenerlo indietro. Una donazione di modico valore. Allora, la Corte continua, dice che chi chiede l'emosina non turba né la tranquillità, né l'ordine pubblico, non si tratta quindi di un soggetto pericoloso da ritenere proibito. Quindi, a partire dal 1995, è pienamente legittimo chiedere l'emosina. A limite possono intervenire delle ordinanze comunali che potrebbero impedire di chiedere l'emosina in zone particolarmente, non so, zone turistiche, di interesse, insomma, potrebbero intervenire. Però non, ovviamente, prevedendo una figura di reato, ma con delle sanzioni, considerandolo un po' un illecito di carattere amministrativo. Ammesso che le sanzioni, se uno chiede l'emosina, avrà la disponibilità economica di pagare queste sanzioni. Però questo è una domanda che ci poniamo quanto possono, come dire, avere deterrenti queste sanzioni. Allora, però, è proprio sempre così? No, perché in alcuni casi chiedere l'emosina è vietato ed è reato. Quando? Quando c'è un'insistenza tale da integrare il reato di molestie. Molestie uno continua a chiedere... Contravenzione, se non sbaglio, quindi... Sì, però, insomma, è sempre un fatto penalmente rilevante, no? Certo. Poi, ad esempio, chiedere i soldi al semaforo, anche questo è chiedere l'emosina, però, se chi chiede i soldi, ad esempio, si pone davanti le autovetture, non fa partire le autovetture dal semaforo, ecco, anche questo è un'altra ipotesi. Violenza? Ma sì, può essere violenza, anche quella è un po' molesto, da inquadrare, però è un'ipotesi comunque penalmente rilevante. Certo, certo. Per poi, addirittura, cadere nel reatto di minaccia, di estorsione, quando, ad esempio, una fattispecie che è un po' sgradevole, tante volte quando si va in certe città, è quella del parcheggiatore abusivo, dove lì, velatamente, il parcheggiatore dice, io ti chiedo così i soldi, un'elargizione, ti fanno capire... Che se non la fai... Se non la fai, sono problemi tuoi... ...sulle condizioni dell'autovettura. Ecco, questo qui capite che è totalmente illegittimo. Per cui, eppure illegittimo anche sfruttare delle altre persone, ad esempio dei minori, per chiederle l'emosina. Un'altra ipotesi di reatto è, ad esempio, chiedere l'emosina in ginocchio con un cane denutrito. Certo, perché questo è un maltrattamento animale. Per cui, insomma, diciamo che... Cioè, tutte queste componenti che lei ha elencato trasformano, cioè, fanno sussistere... Di per sé non è reato, però ci sono altri elementi su certe tipologie di condotte che fanno... ...e la fattispecie di reato. Certo. E a questo punto mi sono anche chiesto... Mi piacciono le ricerche del collega... Ma sì, così. Cioè, sono domande che mi faccio, Io mi cerco di rispondere poi per aglietare più o meno i nostri ascoltatori. Per dare maggiore consapevolezza. Sì, consapevolezza di quello. E anche questa è abbastanza importante. Vivere per strada è reato. Anche qui è dovuta intervenire una sentenza, questa volta Cassazione, del 2017. 37.787. Quindi cose recenti, molto recenti. Nonostante che l'abitudine di vivere per strada sia... Sì, questo... Cioè, la Cassazione qui in realtà ha precisato che non si tratta di reato, che non si può impedire qualcuno di vivere per strada. Addirittura... Dice, bene, la strada ha un bene di tutti. Teoricamente, ad esempio, un condominio, tante volte si parla di condomini, se avesse un clochar che vive... Il clochar sembra più bello, ma giusto perché è francese. È un po' come l'humano che è scargò. Cioè, alla fine è la stessa cosa, però... Sì. Noi lo chiamiamo barbone. Suona esteticamente meglio, ma... Sì, ma il contenuto è sempre quello. Ecco, in questo caso, anche, facciamo un esempio, un condominio non potrebbe impedire, teoricamente, che un clochar si metta a dormire sul suolo pubblico, non in area condominiale, ovviamente. Per esempio, a volte ci si va a scaldare. Io ho visto qualche... Eh sì. E purtroppo è una realtà, è una realtà, ovviamente, brutta. Poi, per fortuna, ci sono queste associazioni che cercano di aiutarli, di trovare una sistemazione, perché credo che, da un lato, può essere una scelta, ma sono pochi, secondo me, quelli che lo scelgono proprio come filosofia di vita. Qui, nella nostra città, qualcuno ha fatto questa scelta. Sì, come filosofia di vita. Però, molti sono costretti, arrivano a quello. Certo. Non si può mai sapere. Anche qui, purtroppo... Quelli che dormono in macchina, che non hanno le disponibilità. Tante volte capita, nei casi di separazione, quando spesso i mariti, almeno a me è capitato di vedere un caso del genere, sono allontanati dal domicilio familiare, perché viene assegnata moglie e figli. E a questo punto, magari, questo qui, poveraccio, che deve passare anche un assegno di mantenimento, mantenimento, ovviamente e giustamente per i figli, non ha la possibilità di trovare un appartamento in affitto e alcuni casi dormono in auto, in camper o qualcosa. Negli ultimi anni, con la crisi e con tutto quello che c'è stato, si è parlato molto anche sui giornalisti delle nuove povertà, insomma. Quindi non è soltanto il clochard, che pure fa fine, ma insomma sono realtà che, al di là di quelle più terribili, che ci circondano sono... Cioè ci sono quelli che l'hanno fatto magari per scelta di vita, pochi, e tanti ci sono magari costretti, no? Si trovano in una situazione, perdono il lavoro, sono tante le situazioni brutte, ahimè, che... Bene, adesso... Cerchiamo, lo so, cerchiamo di... Abbiamo detto che dovevamo aglietare i nostri amministratori, in realtà abbiamo dato una maggiore consapevolezza di quelli che sono i comportamenti ancora puniti o punibili dalla legge, perché se non ci fosse la legge... Come la canzone... Se non ci fosse la legge... Noi non potremmo sapere se abbiamo i nostri diritti, o se dobbiamo tacere. È la sigla della nostra trasmissione, composta... E tutto sommato... ...dalle collega, amico... Troppo buone. Mi rendo conto che oramai è diventata un po' surreale, però la lasciamo perché ha 18 anni di età. Eh, ci siamo affezionati. A tutti, un grazie per l'ascolto... Arrivederci a tutti. E alla prossima di Ho ragione, Avvocato. Arrivederci. A presto. Oh, cosa dice la legge vorremmo forse imparare perché nel mondo dei giusti ci metteremo alla fine. Ah no, a presto.